B.L. e Cina, un rapporto complicato e difficile da spiegare, da quando nel 2016 il drama cinese Addicted divenne in pochissimo tempo un fenomeno mondiale. Ho incontrato Aria Lee, il regista di In Your Heart, l'ultimo drama cinese B.L. e uno dei pochissimi dopo il 2016 che non ha trasformato il rapporto d'amore omosessuale dei due protagonisti in una semplice amicizia o fratellanza. La serie In Your Heart racconta la storia di due migliori amici che si conoscono sin dall'infanzia e che, all'ultimo anno di scuola superiore, si rendono conto di essere innamorati l'uno dell'altro. Fanno da contorno a questa storia LGBTQ, amici, compagni di classe e parenti dei due. Aria Lee, dopo il 2016, è stato ed è uno dei pochissimi registi cinesi ad avere portato in scena drama e film B.L. come Capture Lover e la saga cinematografica di Ghost Boyfriend. Dove è stato girato il drama? E quando? Come ti è venuta in mente l'idea per In Your Heart? Quanto tempo c'è voluto per girare l'intera serie? Perché hai deciso di concludere la serie come la vera storia con un finale quindi aperto e la novel avrà un vero finale? Quanto tempo... Quanto tempo... Quanto tempo... Quando sarà disponibile il romanzo e sarà tradotto per i fan internazionali? Quanto tempo... Quanto tempo... Quanto tempo... ... Qual è la parte più difficile delle riprese di un drama BL in Cina? Quanto costa girare una serie televisiva 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 in Cina? Quanto costa girare una serie televisiva? Quanto costa girare una serie televisiva in Cina? 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 ho letto un articolo in cui spiegavi che i canali internazionali hanno acquistato i diritti di In Your Heart per 2000 RMB, circa 300 euro considerato il basso prezzo hai mai pensato di usare altri modi per mostrare il drama ai fan internazionali e guadagnare di più? per esempio un canale di YouTube come fanno i thailandesi? questo io voglio agli prosciutto la sua storia che è il cibo dei internazionali mi cibo di grado di domani della giusta è in 2,000 euro di una cioè di una di divi quello che è necessario di un di quindi questo費, con il nostro aiutare un grande è uno di tutti te rinconi e tutti i suoi e anche di quest'anno che ci però YouTube è stata viene tutta in 5.5 anni ora non ho sì ancora mai la prima informazione Adesso il dramma è finito, quali sono i tuoi prossimi piani? Adesso il dramma è finito, quali sono i tuoi prossimi piani? Non c'è nessun ragazzo, quindi non c'è nessun ragazzo, ma non c'è nessun ragazzo. E poi aggiungere i tuoi prossimi piani, anche se il dramma è finito. E poi, un progetto è così. Se ci sono i tuoi prossimi piani, potrei anche raccontare in un'altra strada. Sapevi di avere molti fan internazionali di In Your Heart and Capture Lover? E poi, anche se si sono i tuoi prossimi piani, anche se si è un progetto. E poi anche se sono molto felice, anche se è molto felice. E poi, anche se è molto felice, potrei spiegare i tuoi prossimi piani. E poi, anche se sono i tuoi prossimi piani. 要相信 相信 我们会想 童話故事里 幸福很久 快乐是结局 我愿变成 我 我愿变成 童话你 你爱的 ... ... ... ... ...